Una grande soddisfazione e ringraziamo sia il CUS, sia l'università e sia Umana per l'opportunità che danno anche a Reier. Chiaramente è qualcosa di importante per noi, dicevo prima in conferenza, si chiude un cerchio che inizia con i Reier Baby, che prosegue con il progetto scuola per arrivare al Cumine con la Reier School Cup, ora anche la parte universitaria dà una continuità in questo progetto. Reier lo diciamo sempre, ma non vuole essere un refrain, ma è la verità, vuole essere qualcosa di diverso, non solo una squadra sportiva, ma un progetto sociale e culturale. E in questa occasione, in questa location, trovo veramente un ampio respiro. Cercheremo di essere insieme, di lavorare insieme. Dare e dire adesso è difficile perché ci siamo appena conosciuti, abbiamo appena segnato qualcosa di importante, ma siamo convinti che sia qualcosa di interessante, di positivo estremamente per i giovani o le giovani che andranno a frequentare sia l'Ateneo e per avere poi alla parte sportiva una realtà come Reier che può accompagnarli. Diciamo che arriva dopo un percorso già improntato alla grande collaborazione tra mondo del lavoro e mondo dello sport, non a caso umana è proprietaria della società Reier, inizialmente solo sponsor, perché crede nel valore dello sport proprio anche per entrare con più facilità nel mondo del lavoro. Lo sport, lo sport di squadra come il basket, insegna a lavorare assieme, insegna a vincere, a prepararsi a gestire lo stress della vittoria, ma anche quello della sconfitta. E oggi bisogna essere preparati anche a questo, perché comunque nel percorso lavorativo di chiunque anche la sconfitta esiste, ma bisogna essere pronte ad avere gli strumenti per rialzarsi velocemente e fare, diciamo, di un'esperienza apparentemente negativa qualcosa che poi può aiutare nel percorso successivo. La squadra ecco deve essere composta, per questo è il nostro progetto, solo da studentesse universitarie e l'entrata di Reier Umana è fondamentale per riuscire a attrarre ancora di più le studentesse, perché si sentono in una situazione ancora più solida dal punto di vista tecnico-sportivo, con una realtà come Umana e Reier che dà un livello tecnico molto elevato. E quindi l'idea è anche di comunicare all'esterno, comunicare a livello italiano, che unire una società di basket super prestigiosa come Umana Reier con un'università storica, prestigiosa e rinomata come l'Università di Padova è possibile ed è possibile fondere ad alto livello sport e studio. Questo è il messaggio più forte che vorremmo mandare.